Si terrà il prossimo 8 marzo il tavolo tecnico congiunto con la direzione generale dell'asala di Salerno per parlare anche delle problematiche del presidio di Battipaglia. La comunicazione è avvenuta a seguito della protesta eclatante nella mattinata di ieri della sindaca Cecilia Francese che ha denunciato incatenata all'esterno del presidio i disservizi dell'ospedale battipagliese. È da ieri mattina che sto qui avanti a rivendicare per questo ospedale delle soluzioni quanto prima possibile, soprattutto ora in emergenza Covid. A parte la solidarietà di molti cittadini e di colleghi che mi hanno un po' coccolato a turno ma le novità sono state che abbiamo, siccome l'8 marzo, lunedì prossimo, c'era un tavolo ci sarà un tavolo tecnico congiunto con direzione generale, direzione amministrativa, sanitaria e sindaci del distretto. È stato aggiunto, oltre all'ordine del giorno che riguardava criticità vaccini over 80, è stato aggiunto il punto di criticità ospedale di Battipaglia. Quindi questo tavolo tecnico in precedenza convocato per questo si parlerà anche dell'ospedale di Battipaglia. Quindi questo sicuramente è una cosa importante. Come ho ricevuto la telefonata del direttore Minervini, tre telefonate ieri, una stamane, dopo prenderemo insieme un caffè. Lo ringrazio per la solidarietà. La cosa che voglio dire è venuta un po' meno e lo considero come sgarbo istituzionale, è la mancata chiamata del direttore generale Iervolino. Non so perché, eppure lui ha fatto il sindaco, la città di Battipaglia il sindaco la ritiene uno sgarbo istituzionale. Ho scritto già stamane all'assessore regionale della sanità, al prefetto, per conoscenza al governatore, dove praticamente chiediamo un tavolo per la criticità di questo ospedale. Voglio rispondere a coloro che dicono che ora solo mi interesso di ospedale, che non è così. E voi che siete giornalisti e che mi avete seguito anche quando ero consigliere comunale, le mie battaglie sono da prima che facessi il sindaco e il consigliere comunale. Ma non vi voglio ricordare anche le 9.000 firme che abbiamo raccolto con il mio movimento, insieme alla dottoressa Cirano e tanti altri cittadini, sulla chiusura della medicina nucleare. Questo è un altro punto. Noi abbiamo dei reparti dove sempre Iervolino ha annunciato l'inizio dei lavori e lì è un deposito e dovrebbe venire la medicina nucleare con la PET-TAC. Voi sapete che oggi questo è un esame indispensabile, soprattutto per i follow-up dei pazienti con carcinomi. Anche una risonanza magnetica. Insomma, è un ospedale che merita rispetto, è una piana del sele che merita rispetto, rispetto che sta venendo meno. Noi ne abbiamo avuto tanti. Perché questa mia uscita è eclatante? Perché? Perché era tempo che mi si diceva non ti preoccupare, domani, domani, la settimana prossima. Aveva detto che per febbraio avrebbe sistemato una situazione interna in questo ospedale che rischia di implodere e invece voglio dire, stiamo ancora aspettando.